ciao a tutti e bentrovati nel mio canale fantasticamente hinge dove oggi arricchiremo la playlist dedicata al corso di html con un argomento diciamo così avanzato infatti parleremo di form o in italiano meglio conosciuto come modulo quindi in html il modulo è usato per raccogliere l'input dell'utente che viene quindi preso e spesso inviato a un server per l'elaborazione per intenderci molti di voi l'hanno già usato altri no un form è quello che trovate quando atterrate nell'home page del mio sito www.fantasticamenteinj.com che io ovviamente utilizzo per raccogliere le vostre richieste di consulenza di chiarimenti ma anche perché no le vostre richieste del bademecum con gli esercizi anzi colgo l'occasione per invitarvi a farne richiesta qualora foste interessati insomma per creare questo modulo contatti molto semplicemente è stato usato l'elemento form questo elemento funge da contenitore per diversi tipi di elementi come ad esempio campi di testo caselle di controllo pulsanti di invio eccetera eccetera oggi vedremo gli elementi input più utilizzati però poi già nei prossimi tutorial ci addentriremo più nei dettagli per scoprire tutti i vari tipi di elementi che possiamo trovare all'interno di un form partiamo dall'elemento più utilizzato ovvero l'elemento input un elemento input può essere visualizzato in molti modi a seconda dell'attributo type e qui ho riportato alcuni esempi quindi se nell'attributo type scriviamo text allora verrà mostrato un campo di immissione testo a riga singola che salvo diverse indicazioni avrà lunghezza predefinita di 20 caratteri se invece scriviamo radio verrà mostrato un pulsante di opzione che permette di selezionare una fra le scelte proposte con checkbox invece avremo delle caselle di controllo che ci permettono di selezionare più opzioni tra quelle proposte poi specificando submit verrà visualizzato un pulsante di invio che serve spesso per inviare il modulo stesso e mettendo button nell'attributo type invece verrà visualizzato un generico pulsante cliccabile bene questi sono solamente cinque tipi di input ma in uno dei prossimi tutorial vedremo sicuramente tutti gli altri beh intanto giusto per capire come funzionano andiamo avanti e andiamo avanti col primo tipo di input che è quello più diffuso nei vari moduli che incontriamo sul web se ad esempio immaginiamo un modulo per la spedizione di un determinato articolo sicuramente ci chiederanno di mettere nome cognome indirizzo e quant'altro ora l'input che serve in questi casi è di tipo text questo tipo di input serve per definire come abbiamo detto prima un campo di immissione a riga singola ora come si vede da questo esempio inserendo tra le parentesi angolari la scritta input type uguale e poi tra virgolette la scritta text lasciate perdere per il momento tutti gli altri elementi attributi concentriamoci per ora solamente sul tipo di input ciò che vedremo come risultato sarà un campo di testo poi tra qualche minuto andremo sicuramente a fare degli esempi pratici che chiariranno il tutto intanto andiamo avanti e andiamo avanti col secondo tipo di input file più diffusi ovvero radio quindi se specifichiamo type uguale radio vedremo un pulsante di opzione che ha la forma di un cerchietto vuoto questo tipo di input attenzione consente di selezionare solo una tra le opzioni proposte a differenza invece delle checkbox le checkbox sono caselle di controllo definite da type uguale checkbox questi tipo di input a differenza di quelli di tipo radio consentono a un utente di selezionare più opzioni tra quelle proposte perciò quando vogliamo che la risposta sia una andremo a inserire un input di tipo radio se invece vogliamo consentire una scelta multipla allora andremo a inserire un input di tipo checkbox poi per inviare i dati andremo a mettere un input di tipo submit questo tipo di input definisce un pulsante che serve per inviare i dati a un gestore del modulo che è in genere un file sul server con uno script che serve per l'elaborazione dei dati in input il gestore del modulo andrà specificato qui nell'attributo action del form ok prima di passare alla parte pratica volevo farvi notare la presenza in tutti questi esempi dell'elemento label questo elemento serve a definire un'etichetta per la maggior parte degli elementi del form poi come vedete scritto qui sicuramente è utile per chi si avvale dell'assistenza degli screen reader perché perché lo screen reader leggerà l'etichetta con un'intonazione diversa e a voce più alta inoltre è di aiuto a chi ha difficoltà a fare click su porzioni di testo molto piccole pensate per esempio ai pulsanti di opzione radio che abbiamo visto prima oppure alle caselle di controllo perché perché come vedremo tra un attimo quando faremo la parte pratica quando l'utente fa click sul testo contenuto all'interno dell'elemento label attiverà o disattiverà il relativo pulsante di opzione oppure la relativa casella di controllo praticamente detto in soldoni se il cerchietto del radio button oppure il quadratino della checkbox è molto molto piccolo il click sulla relativa label ci salverà da molte imprecazioni ecco diciamola così come vedremo tra un attimo l'attributo for del tag label dovrà essere uguale all'attributo id dell'elemento input questo serve in qualche modo per collegarli quindi equivale a dire questa è l'etichetta di questo specifico input ma lo vedremo tra un attimo ultima cosa importantissima è invece l'attributo name dell'elemento input avrete già notato che ogni campo di input ha il suo attributo name da inviare se questo attributo name viene omesso il valore del campo di input non verrà inviato affatto quindi ricordatevi che affinché tutto funzioni l'attributo name è un must have benissimo detto questo siamo pronti a mettere in pratica quanto visto finora quindi andiamo alla nostra solita pagina di base e cominciamo testando l'input di tipo text quindi ci mettiamo dentro body e andiamo a scrivere il seguente codice perfetto allora se noi andiamo a salvare e ricaricare la pagina otteniamo questi due campi di testo questi due campi di testo avranno larghezza di 20 caratteri e avranno due label una con la scritta nome e l'altra con la scritta cognome esattamente come ci aspettavamo benissimo andiamo avanti e andiamo a testare i radio button beh un uso molto tipico è la scelta del genere maschile femminile ma siccome noi vogliamo essere inclusivi aggiungiamo anche una terza voce come giusto che sia per i non binary quindi posizionati qui andiamo a scrivere un altro h2 con la scritta input di tipo radio ok anche in questo caso salviamo e andiamo a ricaricare la pagina vi faccio notare che possiamo effettuare solo una scelta tra quelle proposte quindi non si possono selezionare due scelte quindi l'opzione è sempre solo una per permettere all'utente di effettuare una scelta multipla andremo invece ad usare le checkbox ok dovremmo esserci quindi salviamo ricarichiamo la pagina e come vedete stavolta è possibile selezionare più opzioni tra quelle proposte quindi se io ho un cane e un pesce posso permettermi di effettuare la selezione multipla ah un'altra cosa vi faccio notare come dicevo prima se per qualche motivo avessi difficoltà a centrare o il cerchietto oppure il quadratino un clic sulla relativa etichetta andrà ad attivare oppure disattivare l'opzione questo vale sia nel caso delle checkbox sia anche nel caso dei radio button perfetto beh a sto punto in tutto questo manca ovviamente un pulsante che permetta di inviare i nostri input quindi se ad esempio prima di chiudere quest'ultimo form vado ad aggiungere qui un input di questo tipo e con value scriviamo sopra invia quindi salviamo ricarichiamo la pagina come vedete otterremo un pulsante con la scritta invia beh che ovviamente non farà nulla per il momento perché perché dovremmo inserire il nostro famoso gestore del form e come vi ho detto prima lo si fa attraverso l'attributo action del form quindi dentro il tag di apertura del nostro form dovremmo inserire qui action uguale tra virgolette il nostro gestore del form siccome l'elaborazione di questi dati su server esula da questo corso noi ovviamente non andremo a mettere nulla quindi al momento non invieremo i nostri dati a nessuno e beh intanto sicuramente abbiamo un'ottima infarinatura sui form abbiamo capito cosa sono abbiamo capito come si costruiscono e poi nei prossimi tutorial andremo ad approfondire altri aspetti quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like o un commento e per non perdervi i prossimi iscrivetevi al canale ciao